Lei non aveva alcuna autorità, nessuna. Che cosa ci faceva lì? Magnifica, vero? Da zero a cento in tre secondi e due, con qualche trucchetto nella manica. Mi serve un'ultima cosa. Che cosa hai in mente? Fammi scomparire. Mi dica dov'è. Lui è ovunque. Lei, signor presidente, io so cose che altri non sanno. Quanto mi dà per passere? Questa organizzazione, sai come si chiama? Si chiama Spectre.